O frati, dissi, che per centomiglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto piccola vigilia di nostri sensi che è del rimanente. Non vogliate negare l'esperienza, di retro al sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.